Rimini è un comune italiano di 148.833 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia Romagna. Località di soggiorno estivo di rilevanza internazionale, si trova sulla riviera romagnola e si estende per 15 chilometri lungo la costa dell'Alto Adriatico. Vanta una lunga tradizione turistica, nel 1843 vi fu inaugurato il primo stabilimento balneare in Italia. Colonia fondata dai Romani nel 268 a.C., per tutto il periodo dalla loro dominazione è stata nodo di comunicazione fra il nord e il sud della penisola e sul suo suolo gli imperatori romani eressero monumenti dei quali restano tracce importanti. È stata Feodo dei Malatesta, e la corte di Sigismondo Pandolfo Malatesta fu una delle più vivaci dell'epoca, ospitando artisti come Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Roberto Valturio, Matteo De Pasti conservando rilevanti opere del Rinascimento italiano. Rimini è il più grande comune della Val Marecchia, è situata sul mare Adriatico, all'estremità sud orientale dell'Emilia Romagna, a breve distanza dal Monte Feltro e dalle Marche. Il territorio comunale si estende per 135 km2 e confina con Bellaria Igea Marina, San Mauro Pascoli e Sant'Arcangelo di Romagna a nord-ovest, Verrucchio e Serravalle a sud-ovest, Coriano a sud e Riccione a sud-est. Rimini occupa una posizione storicamente strategica, all'estremo vertice meridionale della Piandura Padana, la sua provincia rappresenta il punto più meridionale dell'Emilia Romagna. Rimini occupa una posizione storica, all'estremo vertice meridionale dell'Emilia Romagna. L'hotel Vienna Stand è aperto, vi aspettiamo a Rimini, numerosi, per accogliervi questo riso in sicurezza. L'hotel Due Mari, aria aperto, vi aspettiamo con tantissime novità a Rimini. L'hotel Adriatica ha riaperto sotto la sua nuova gestione della Cimino Hotels, vi aspettiamo a Viserba di Rigi. L'hotel Savina è aperto, vi aspettiamo a Rimini. L'hotel Residence 8 è aperto, vi aspettiamo il bonus vacanze, vi aspettiamo a Rimini. Estate 2020, le vacanze quest'anno si fanno in Romagna. Mi raccomando, vi aspettiamo a Rimini. Gradisca!